35 milioni di euro per il piano triennale delle opere pubbliche a San Giovanni Valdarno a cui si sommano poi 9 milioni e mezzo per i lavori già affidati. Il piano è stato adottato in giunta ed approvato nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 16 marzo. 35 milioni di euro di investimenti rappresentano un obiettivo ambizioso anche in considerazione di circa 10 milioni di euro di progetti che sono stralciati dal piano triennale delle opere pubbliche perché partiranno in questa annualità. Un lavoro reso possibile grazie a quanto fatto in questi anni in termini di progettazione e di ricerca di finanziamenti. Le ricordo brevemente circa 15 milioni di euro di fondi PNRR che arriveranno sul nostro territorio sono arrivate e arriveranno nel corso delle prossime annualità. 5 milioni di euro la convenzione Terretav, 6 milioni e mezzo dalla convenzione con autostrade. Tutti i finanziamenti che ci consentiranno di lavorare su quattro direttrici fondamentali che hanno da sempre caratterizzato l'azione amministrativa nell'ambito dei lavori pubblici. Scuole, mitigazione del rischio idrogeologico, infrastrutture ed edilizia sportiva. Questi hanno rappresentato da sempre i quattro cardini della nostra azione amministrativa affiancati a un'attenzione importante su quelle che sono le manutenzioni sia del patrimonio viario che degli edifici comunali. 500 mila euro di lavori sono già stati affidati e partiranno entro giugno. Abbiamo bandito le gare di tre importanti progetti PNRR a fine 2022 lo 06 della Rosa Caiani, l'asilo nido della Rodari e il progetto del Teatro Bucci. Questi tre progetti sono attualmente in fase conclusiva e verifiche per la giudicazione definitiva delle gare e partiranno quasi in contemporanea tra l'inizio di giugno e la fine di giugno.